Mi sono Filippo, ho imparato molto nella mia classe, soprattutto di grammatica, ho imparato come usare bene i verbi e l'attività che mi è piaciuta di più è stato l'orientamento perché mi è piaciuta molto che abbiamo fatto una gara e era molto interessante. Mi è piaciuta molto la città perché aveva dei posti molto belli e era pieno di turisti.